Mascherine a ruba col coronavirus che ha avuto terreno fertile nello scatenare la classica psicosi. Da nord a sud della penisola le farmacie sono state letteralmente prese d'assalto, esaurendo le scorte in pochi giorni. C'è chi si informa, chi manifesta timori, acquista le mascherine nel tentativo di proteggersi da un ipotetico contagio. Nei magazzini anche a Lanciano le scorte sono terminate in pochi giorni. Gli ordini fanno fatica ad essere soddisfatti, dunque mascherine introvabili o quasi, con un prezzo che va dai 50 centesimi per quelle antipolvere fino ai 13 euro per quelle con gli appositi filtri più specifiche che evitano la contaminazione. Le vendite sono aumentate a dismisura, centinaia per ogni farmacia, protezioni che rappresentano comunque un flebile aiuto più psicologico che reale. Spesso sono eronia della sorte di produzione cinese. Il Tg Maxx ha avuto fortuna e ha trovato una farmacia che ne ha a disposizione. Si è creato questo clima di paura, giustamente ci si vuole proteggere. Quali sono le domande che vi fanno più spesso? Beh, come si sono allarmati, le persone sono allarmate soprattutto, dicono che problema c'è, qual è, perché può arrivare, allarmismi che sentono nei social, nelle tv. E voi le rassicurate? Ma certamente, certamente. Diciamo che le mascherine servono a ben poco, più per proteggere, a infettare, ma non per proteggere se stessi, innanzitutto. Quindi norme di buona è lavarsi le mani, evitare chiaramente i contatti, è quello che succede con tutte le forme virali. Quante ne avete vendute? Una stima? Diverse, ma almeno quattro scatole. Da? Da 50. Quindi un 200 mascherite. Ma non si trovano. Ieri è arrivata l'ultima scatola, altrimenti ne avrei venduta molto di più.